E ora occupiamoci di sport con il calcio di Serie C e la inevitabile riprogrammazione, chiamiamola così, del Pescara alla luce del lungo stop che è stato imposto all'allenatore Zeman dopo l'intervento riuscito comunque questa mattina. Allora parliamo di questo partendo ovviamente da questa notizia per vedere poi quali sono le novità anche in casa Biancazzurra e lo facciamo con Massimo Profeta che è qui in studio con noi. Buonasera Massimo. Buonasera Anna, a te e a tutti gli amici di Misura dell'Ascolto, intanto la salute prima di ogni cosa come dicevi tu perché l'intervento eseguito oggi nella clinica Pierangeli è perfettamente riuscito, Zeman però dovrà stare a riposo dai 4 ai prossimi 6 mesi dunque non potrà tornare in panchina. Il futuro. Buonasera mercoledì questa è la notizia che abbiamo in questo momento, mercoledì il club deciderà a chi affidarsi, c'è l'ipotesi Bucaro, ripetiamo in questo momento piuttosto concreta. Si è fatto il nome anche di altri tecnici, per esempio quello di Delio Rossi che è stato allenatore del Pescara nel 96-97 e nel 2000-2001 lo abbiamo contattato, abbiamo un ottimo rapporto con Delio Rossi. Sì, intorno alle 13.30 Anna ci ha detto chiaramente non ho ricevuto alcuna telefonata dai dirigenti del Pescara. Si è parlato anche di Silvio Baldini che però sta per accettare l'incarico dal Crotone che ha esonerato il tecnico Lamberto Zauli in un momento molto difficile del Pescara, perché è chiaro il Pescara viene da tre sconfitte consecutive, cinque nelle ultime otto partite di campionato e sabato i Biancazzurri affronteranno in casa la Lucchese con inizio alle 16.15. La notizia di questo momento, di questi minuti è che l'ipotesi Bucaro è piuttosto concreta, c'è stato un lungo colloquio tra il vice di Zeman e il presidente Sebastiani e il DS dell'Icarri. Bucaro avrebbe accettato di guidare la squadra, usiamo sempre il condizionale quanto mai di rigore, ci sarebbe stato anche l'imprimatur del tecnico Boemo. Il club deciderà in via definitiva mercoledì. Bucaro avrebbe accettato di guidare la squadra, usiamo sempre il condizionale, ci sarebbe stato anche l'imprimatur del tecnico,